Buongiorno, bonjour, 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 good morning, shalom agli ebrei buoni, salam aleikum agli islamici buoni e preghiamo per la conversione di Soros e i banchieri che hanno rovinato e continuano a rovinare l'Italia. Oggi parliamo di una data importante. Se il 2 giugno 1946 gli italiani sono stati chiamati al voto per decidere tra Repubblica e Monarchia e sapete tutti che decisero per la Repubblica, sappiamo tutti che in quel periodo o poi in quella data furono anche scelti le persone che poi scrissero ed elaborarono la Costituzione italiana. Quindi immaginate il 2 giugno 1946 vengono eletti questi signori, scrivono, stracciano, scrivono, stracciano, scrivono finché il 27 dicembre 1947 finiscono di scrivere la Costituzione e la nostra Costituzione italiana è diventata effettiva il primo gennaio 1948. Fino a qua ci siete tutti. Scusate il look perché io soffro molto di polmoni. Ciao tesoro, ciao, ciao Piera, ciao. Oggi, oggi Piera la dedico a te, ti dedico questa data importantissima che è stata il 2 giugno 1992 e se vedete nella foto della live c'è una nave chiamata il Britannia sapete che tanti parlano Mario Draghi salì sul Britannia è vero e non è vero Allora, Mario Draghi salì sul Britannia in qualità di ministro adesso ve lo dico ma salì a Civitavecchia il 2 giugno 1992 ma non fece la crociera la crociera sul Britannia cioè quindi fece solo il giretto e poi se ne andò, fece un discorso invece sul Britannia c'erano altri personaggi intanto diciamo che il Britannia è una nave della regina, ex regina Elisabetta adesso immagino che sia diventato di proprietà di Re Carlo III ok? va bene? allora, leggo da Wikipedia così non mi tacciate di cose non vere allora, H.M.Y. Britannia buongiorno, buongiorno, buongiorno perché prima di parlare delle cose bisogna anche sapere il contesto storico allora, sappiamo tutti il periodo politico che viveva l'Italia che fino agli anni fine dici anni Ottanta fine anni Novanta fine anni Ottanta quindi primi era Quarta Potenza Quarta Potenzia cosa stai scrivendo? allora, Quarta Potenza Mondiale ok ricordiamo che l'Italia ha ancora una grande potenza però il problema è che le sue aziende dal 92 ad oggi sono state piano 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 privatizzate smantellate e di conseguenza i soldi che producono queste aziende non vengono rinvestiti nelle aziende e di conseguenza se li pappano i banchieri i milionari gli affaristi e chi ne ha più ne metta capito? quindi è come se io prendo un secchio e continuo a svuotarlo ma non lo riempio di nuovo quindi se io continuo a svuotare un secchio senza riempirlo questo secchio alla fine si svuoterà si seccherà ed è quello che hanno fatto questi banchieri adesso vi spiego come allora intanto spieghiamo che cos'è l'HMY Britannia buongiorno buongiorno allora non vi azzardate a voler venire in live voi personaggi ambigui io non ho capito come succede che senza essere invitati questi si si ficcano e bloccano non lo so come possa succedere non me ne frega niente ma vi avviso che non mi fate paura anche se mi avete minacciato in tutte le maniere perché il vostro modo di minacciare è molto subdolo ma io non ho paura hai capito Soros Goldman Sachs banchieri non mi fate paura fate paura a quei quattro stolti che sono in vendita la mia vita non cambia di una virgola perché io non sono legata al sistema bancario hai capito e chi la vuole capire la capisce sapete come potete disfarvi del gioco dei banchieri non chiedete prestiti non chiedete mutui comprate solo in base alle vostre disponibilità voi mi direte ma se io ho bisogno ma tu sei sicuro che hai bisogno della macchina ultimo tipo sei sicuro che hai bisogno del telefonino ultimo tipo sei proprio sicuro che in realtà non ti lavorino al cervello per crearti un bisogno che tu non hai sei proprio sicuro che non facciano apposta per crearti un bisogno che in realtà non hai capito perché adesso sembra dici eh qui facciamo fatica a pagare le bollette ma partiamo dalla storia buongiorno buongiorno partiamo dalla storia che tutti dicono eh ma l'eni italiana ma che cazzo dite l'eni è stata privatizzata e di italiano è rimasto solo il 30% vuol dire che l'altro 70% è di proprietà straniera e quindi è la maggioranza non la maggioranza italiana capito di conseguenza chi decide chi decide non sono l'Italia e gli italiani ma sono gli stranieri quindi gli stranieri hanno la capacità di dire le bollette in Italia devono costare tot va bene quindi non prendetevela con lo Stato italiano ve la dovete prendere con i politici italiani che si sono venduti tutto ma la situazione attuale è colpa delle multinazionali che gestiscono le nostre aziende adesso ve lo dimostro dove sono andate a finire le nostre aziende migliori ma non solo dei trasporti della comunicazione alimentari no cioè delle cose che neanche vi immaginate e vi dico che il 2 giugno 1992 ma non farà niente ma la io cosa vi avevo detto Maria ti avevo detto di andare a votare ti avevo detto di non andare a votare poveretta farà quello che può anche lei o meglio quello che li lasciano fare perché se si muove di più di come deve fare la fanno secca lo sai anche quello io sono convinta che sia una distrazione voi non avete capito che destra e sinistra è tutta una stessa zuppa perché dal 92 a oggi si sono succeduti governi di destra di sinistra 5 Stelle e la Lega e Forza Italia secondo voi la situazione è migliorata economicamente o siamo finiti in un baratro o in un burrone senza senso allora siete ancora qua a credere alla balla di destra e sinistra come o la sceneggiata che ha fatto ieri Letta o quegli altri personaggi che hanno detto no non appoggiamo il governo Meloni ma che cazzo è una presa per il culo fate finta di litigare come diceva mio nonno diceva siete come i ladri di beccaferro litigate di giorno e di notte andate a rubare insieme perché non ve ne frega un cazzo anche perché ormai è stato tutto venduto e per ritornare in possesso delle nostre risorse perché io vi ricordo che l'economia italiana fino agli anni 80 è stata un'economia mista qualcuno ha studiato l'elementari perché queste cose si studiano all'elementario o alle medie quindi non sto parlando di trattati di economia universitaria visto Conte è peggio ancora lascia perdere con gli stati generali ha fatto la conta dei nostri beni lo sai lo sai però il problema non c'entra Giorgia Conte destra sinistra che forse senza offesa Giorgia Meloni è la meno ignorante lì è un'opinione personale perché questa sinistra che si definisce culturale ieri ho visto una trasmissione dice leggo posso leggere hidden truth allora che vuol dire verità mai nascosta così così allora nemici in tv fratelli nell'elogio infatti il vero problema dell'Italia sono le loggi sto spiegando stai attento invece di dire quindi perché non sono tua sorella dammi del del lei quindi impara a usare un linguaggio diverso da quello che usi nelle logge massoniche hai capito hai capito fenomeno Gior che io non sono tua sorella hai capito che non sono tua sorella quindi usa un altro linguaggio il tuo linguaggio che ti ha insegnato il tuo padrone Soros dove date a tutti del tu qua ve lo dimenticate perché io sono anti massonica anti Soros anti banche e tu dici e quindi e quindi questo tipo di governo ma non solo italiano mondiale tutti i governi si basano su oligarchie oligarchie sapete cos'è un'oligarchia governo di poco pochi a discapito di tanti quindi i governi sono una pagliacciata in realtà chi comanda chi governa sono le multinazionali e le banche che puntualmente loro sono i burattinai e scelgono il burattino di turno se vuoi ancora più quindi quindi impara a dare di lei e a rispettare gli esseri umani perché io non sono tua sorella io non sono tua sorella capito Soros io non sono della tua razza malvagia disumana quindi sciacquati la bocca quando parli di me puoi fare quello che cazzo vuoi non me ne frega niente perché so già che fai i tuoi inciuci le tue porcate e te la ridi e mandi i tuoi no le tue ancelle i tuoi vassalli sapete che anche qua su tiktok ci sono dei personaggi che che si vantano pure di essere massoni ma volete che vi faccio io una previsione che tutto quello in cui voi avete sempre creduto cari massoni crollera e tu come lo fai a sapere io lo so a differenza vostra che voi studiate le cose perché vi indottrinano buongiorno Marina io non non le ho studiate perché qualcuno mi ha indottrinato perché mio padre era massone o perché faccio parte di una diciamo ma cosa ti importa ma un altro sciocco e anche se io a parte che tu non sai neanche la definizione di Befana vuoi che ti spiego io la definizione di Befana eh ma anche se fosse hai paura no perché questo scemo dice ma lo farai crollare tu e se fossi io quella a far crollare Soros e le loro bugie e voi massoni schifosi che venite nelle mie montagne a fare i vostri riti perché voi venite da lontano a fare i vostri riti nelle mie montagne no giusto però voi venite da lontano voi non siete di queste parti voi non avete il DNA di queste parti capito quindi prima sciacquatevi la bocca cari massoni prima di parlare con me vi consiglio di sciacquarvi la bocca perché voi pensate che siamo tutti uguali siamo tutti sottosviluppati e nessuno sa leggere ma chi vi ha detto che il potere no ma io non sono arrabbiata scusa ma perché non te ne vai se ti dà fastidio il mio tono ma perché non vai a disturbare da un'altra parte vai a disturbare da un'altra parte vai a disturbare vai a leccare i piedi a Soros vi piace tanto leccare i piedi a Soros vi piace tanto vendergli le cose a quattro soldi perché avete svenduto tutto ok ma non ti preoccupare cosa fanno ma perché mi devi portare fuori argomento sta un po' zitto allora il Britannia H.M.Y. Britannia era una nave di proprietà no is majestic government del governo no ok stiamo stiamo andando proprio fuori argomento vai a scuola che ora andate a scuola se avete voglia di rompere i coglioni non è questo l'argomento magari vi dovrebbe venire voglia di aprire un libro qualche volta allora H.M.Y. Britannia è stato un panfilo della famiglia reale britannica si è trattato dell'ottantatresimo dell'ottantatresima nave avente questa funzione dalla restaurazione di Carlo II d'Inghilterra 1660 e io vi ricordo ma io anche tu ci sei a rompere i coglioni no? giusto? quanto ti paga Soros? eh? non paga molto perché è un po' un tirchione mi hanno raccontato intanto c'è la lingua sporca di merda del culo di Soros tu che vieni qua è vero? ti piace? allora quindi Carlo II d'Inghilterra 1660 ed è il secondo a portare questo nome il primo fu un cutter costruito per il principe di Galles nel 1893 la nave è ormeggiata in modo permanente all'Ocean Terminal di Leite Edimburgo Scozia nel corso della sua vita operativa ha percorso un milione e ottantasette diciamo miglia nautiche pari a due milioni di chilometri oggi fa parte della National Historic Field ok? ed è conservato come nave-museo presso l'Ocean Terminal of Leite Edimburgo Scozia e saluto tutti gli amici scozzesi perché vi parlo di questa nave? perché il 2 giugno 1992 su questa nave è stato fatto questo no? convegno questo convegno ok? questo convegno ciao cari allora quando è avvenuto questo convegno che si parla tanto e qui ci sono i troll che vi piace trollare perché siete così analfabeti che non sapete neanche invece di trollare sì sì c'era anche ma ripeto una cosa da onestà intellettuale che Draghi non ha fatto la crociera Draghi ha fatto un discorsino poi se n'è andato perché lo dice qua questo si chiama onore di cronaca ok? però dovete analizzare gli altri personaggi che c'erano e soprattutto il signor Mario Draghi che ruolo aveva nel 92 capito? cercate di essere un po' ci arriviamo anche a Soros però ci sono anche altre persone perché ricordatevi che Soros da solo non è che fa tutto è una cricca è una cricca no? tutte sono cricche sono cricche no? cos'è un uomo solo l'uomo unico non è è una cricca è una cricca di personaggi farlocchi allora il 2 giugno 1992 è anche un po' ironico perché il 2 giugno è un anniversario importantissimo per l'Italia quindi immaginatevi anche il perculismo quando qualcuno mi dice quali riti siete molto ignoranti questi personaggi hanno un'ossessione per le date per i luoghi perché i luoghi e le date costituiscono delle legittimazioni no? non so come dire hanno un'energia queste date non sono casuali 2 giugno 1992 proprio l'anniversario l'anniversario della Repubblica no? quasi come schiaffo pum uno schiaffo pum ok sì ma non essere così sei un po' primitivo perché questo dice seguono il segno di Satan ma Satan tu non sai neanche la definizione di Satan sta un po' zitto Satan vuol dire pubblica accusa avversario quindi non usate le parole a cazzo perché mi fate girare i coglioni stampo zitto e segui allora il 2 giugno 1992 a bordo della nave si tenne un convegno sulla privatizzazione in Italia e vi ricordo che l'economia italiana era un'economia mista vi ricordo che ai tempi no? i partiti diciamo più forti in Italia erano la democrazia cristiana e i socialisti ma proprio nel 92 iniziò un percorso un po' dire shh 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 capito? lascia ma di cosa parli che non ne sai niente sta un po' zitto allora vi ricordo che c'è un precedente vi ricordate il discorso di Sigonella quando ci fu il discorso degli terroristi e poi che gli americani volevano mettere le mani sui terroristi lì Bettino Craxi che non vi ho detto che era un santo vi ho detto che però ha detto agli americani col cazzo questo aereo Craxi che non vi ho detto che era un santo vi ho detto che però ha detto agli americani col cazzo questo aereo non si muove perché a Sigonella sono intervenuti i militari e caro Craxi ha fatto intervenire i militari italiani questo è territorio italiano e comanda l'Italia capito caro fenomeno? perché a voi i giovincelli vi hanno fatto un bel lavaggio del cervello facendovi credere facendovi credere che noi siamo il paese più sporco del mondo più cattivo del mondo più schifoso del mondo io non ho mai detto che Craxi era un santo che Andreotti era un santo però io vi ricordo che i rapporti di Craxi con la Tunisia i rapporti quindi Medio Oriente i rapporti di Spadolini i rapporti di Andreotti con l'Iraq guardate che c'era insomma tutti questi rapporti infastidivano gli Stati Uniti e la Nato perché noi avevamo un po' quest'abitudine di avere la moglie americana e l'amante araba libica insomma in base alle zone però non ve lo vogliono raccontare che in realtà non ho detto che erano dei santi politici precedenti anzi se qualcuno ha studiato Operazione Gladio sa benissimo che i politici precedenti soprattutto la democrazia cristiana era aiutata e favorita dalla CIA ma la CIA non ha aiutato mica solo la democrazia cristiana la CIA è quella che ha aiutato l'organizzazione del golpe borghese ma ha anche detto state vermi perché i sovietici si stanno incazzando la CIA è sempre quella che andava in giro nelle nostre organizzazioni mafiosi a curiosare perché l'aveva già fatto durante la seconda guerra mondiale per entrare in Italia passando dalla Sicilia si erano alleati alla mafia gli americani ma questo è storia se qualcuno di voi avesse voglia di leggere un libro di storia vero lo saprebbe ma voi vi ostinate a rompere i coglioni a me perché non devo dire la verità quindi più che uno stato l'America mi sembra una merda se collabora con le mafie per entrare io non avrei scelto quella strada lì ma dato che l'America sceglie sempre la strada più facile ma non l'ha fatto solo in Italia entrare in Italia dalla Sicilia e collaborare con la mafia ma va lo fa dovunque la creazione dell'Isis va negli stati cerca i personaggi più rompicoglioni li aiuta li foraggia li sponsorizza perché facciano il lavoro sporco al posto dell'America e negatelo perché le manine della CIA sono andate fino 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 nelle brigate rosse ma aspetta c'erano anche le brigate nere ciao cara capito la CIA era dappertutto dovunque c'era della gente la CIA andava e anche oggi fidatevi se c'era la CIA nell'operazione Gladio figuriamoci se non c'è adesso la CIA in qualsiasi organizzazione italiana lo sappiamo tutto quelle organizzazioni ecologiste che vanno a rompere i coglioni in autostrada che danno fastidio mica i politici alla gente comune quelli che vanno in tv vi ricordate l'anno scorso che con la tenda canadese andavano davanti al PD ma secondo voi che cazzo li paga quella gente lì ma lo sapete che se io persona normale prendo e voglio fare una manifestazione ne avete avuto le prove porca miseria ne avete avuto le prove quando voi cittadini normali e comuni avete voluto manifestare al porto di Trieste vi hanno lavato la faccia quando avete voluto manifestare i ristoratori perché vi tenevano chiusi infrangendo la costituzione italiana vi siete prese le manganellate vi siete presi anche la colpa di essere andati a distruggere la sede famosa di un posto quando non sono stati i ristoratori ma sono state organizzazioni ciao ciao Paola sono state organizzazioni in seno allo Stato ma guardate che mica solo da oggi da sempre io sono una persona che sono vissuta 50 anni e mi ricordo da che tempi a tempi nelle manifestazioni studentesche c'era sempre personaggi ambigui che venivano a rompere i coglioni nelle manifestazioni ok leggo cosa dice Italia è diventata una colonia USA magari siamo peggio di una colonia USA siamo ai livelli dell'Iraq dove prendono ci devastano la cultura lo Stato il patrimonio e poi lo riscrivono a cazzo di modo loro cioè noi che siamo una cultura millenaria cioè abbiamo almeno 2000 anni di storia la nostra storia viene riscritta da un popolo che ha 250 anni di storia ed è fondato a casa degli altri perché a me risulta che gli Stati Uniti sono stati fatti su una terra di proprietà dei nativi americani quindi sono andati a casa degli altri a rompere i coglioni hanno fondato una nazione e poi ci sono dei personaggi anche tra di voi vabbè ma erano incivili ah perché lo dici tu lo dici tu che uno che vive nella capanna incivile e uno che vive nelle case di mattoni civili allora leggo se posso leggere marita allora franzone ai domiciliari e castellino è ancora dentro ok questo per farvi capire che questa magistratura ha iniziato a indagare su tizio caio sempronio dicendo quello ma se tu pensi leggo così dici sarà difficile trovare la sovranità ma tu sei sicuro che sei qua per dire qualcosa di serio o sei qui per demoralizzare gli animi perché dire impossibile per me non esistono due parole per sempre e mai per sempre e mai sono parole che non fanno parte del mio vocabolario per sempre e mai non fanno parte del mio vocabolario svegliatevi quindi se venite qua a dire ma sia ormai ma sia ormai un cazzo perché in Italia a me risulta che anche un ergassolo dura 30 anni non vai non c'è il carcere a vita per gli italiani ok a me risulta che anche i matrimoni si possono sciogliere e fare un bel divorzio quindi se le società si possono sciogliere se i matrimoni si possono sciogliere perché perché non si può sciogliere questo accordo malsano fatto tra tra dei politici deficienti negli anni 40 e lo stato americano lo stato inglese lo stato francese adesso dopo 77 anni addirittura l'unione sovietica ha smantellato il patto di Varsavia perché noi dopo 77 anni non possiamo smantellare le basi americane che abbiamo sul territorio e toglierci dai coglioni questi invasori perché noi abbiamo il debito ma facciamo i conti vediamo quanti debiti no abbiamo a me risulta invece che proprio nel 92 avevamo dei politici che si sentivano più forti dicevano ma forse noi essendo quarta potenza mondiale abbiamo adesso il potere di toglierceli dai coglioni infatti i politici stavano alzando la testa come Craxi che voi ci sputate sopra tanto a Craxi no? ci sputate sopra Craxi e poi date il premio a Mario Draghi per averci infognato indebitato fatto usare il Green Pass ci ha parlato come dei mongoloidi perché lui parlava a noi dicendo la guerra al condizionatore se non ti vaccini ti ammali muori capito? capito che un emerita astronauta conta ascolta il mio discorso certo che conta i soldi contano sempre i soldi contano sempre ascolta il mio discorso se io dico a te tu mi devi 100.000 euro perché io te li ho imprestati io ti ho ridato 100.000 euro perché a quest'ora sai quanti soldi li abbiamo ridato all'America? ma intanto vado a rivedere che tu America mi hai creato dei danni perché bombardare Monte Cassino e Dresda perché voi andate a vedere delle foto dell'Italia o della Germania subito dopo la seconda guerra mondiale edifici proprio bombardati da assassini perché quante cazzo di volte la vuoi bombardare Monte Cassino o Dresda quelle sono state manifestazioni di forza per dire vedi come siamo fighi siamo forti allora quindi io ti chiederai pur i danni per averci rovinati poi dice no ma ci hanno imprestato i soldi del piano Marshall e ripeto noi negli anni 80 eravamo quarta potenza mondiale quindi ci eravamo tirati sulle braghe ed eravamo praticamente indipendenti senza contare tutto il lavoro fatto tra gli anni 60 tra gli anni 50 anni 60 da Enrico Mattei per renderci indipendenti a livello energetico ma tutti se le dimenticano queste cose no? quindi Mattei fa tutto questo lavoro perché l'Italia diventi un paese indipendente i politici anche se un po' corrotti i sozzoni va tutto bene ma iniziano a dire no però non rompermi i coglioni perché noi siamo comunque uno stato sovrano allora l'America dice questi burattini si stanno montando la testa cambiamo i burattini e hanno messo in piedi questa pagliacciata perché è stata una pagliacciata di Tangentopoli per togliere di mezzo i burattini vecchi e per mettere di nuovi questa è la verità poi se voi non ci volete credere cazzi vostri ma questa è la verità e senza contare che per indebolire uno stato che si stava montando la testa hanno detto bene sai che facciamo di questo stato lo smantelliamo pezzo per pezzo ok quindi il 2 giugno 1992 a bordo della nave si tenne un convegno sulle privatizzazioni in Italia a cui presero parte importanti manager ed economisti questo avvenne a questo evento è inutile che fai la chiocciolina eh io ti mangio vivo a te le chioccioline te le infili nel naso con me lo sai? capito? si bravissimo Enrico Mattei aveva perché Enrico Mattei sapete cosa sapeva fare nei paesi arabi andava lì e trattava gli arabi come esseri umani ok? mentre le sette sorelle le sette sorelle trattavano gli arabi come schiavi come li fanno adesso no? vi hanno lavato così tanto il cervello che vi dicono arabi cattivoni sono tutti brutti brutti e certo i dittatori buoni sono quelli tipo Al-Sisi e Putin è cattivo quindi Al-Sisi ci può ammazzare Giulio Reggeni capito? e noi gli vendiamo le navone gigante di Fincantieri che adesso vi dimostrerò che Fincantieri Eni Enel Telecomotostrade sono in mano ormai a compagnia straniere capito? e svegliatevi un po' perché non esistono io non ho detto che gli arabi sono tutti buoni ma neanche essere così semplicistici e dire che gli arabi tutti cattivi e i cattolici tutti bravi no? e poi aspetta loro li piacciono molto i protestanti gli ortodossi non li piacciono perché sono russi e poi capito? tutto quello che gli piace a loro e voi ignorantoni continuate a dire viva qui viva là senza capire che sono tutti uguali mentre voi state a litigare ancora qui sui social venire a dire Befana venire a dire cazzate no? ma tu perché ce l'hai con l'Islam? ognuno crede perché ti fa tanto paura uno che crede nell'Islam creda in che cazzo che vuole a me non mi fanno paura gli islamici non mi fanno paura gli ebrei non mi fanno paura i cristiani l'importante è che non rompano i coglioni agli altri mi fanno paura quelli che vogliono dire agli altri in cosa credere mi fanno paura quelli che vanno a rompere i coglioni a casa degli altri come sono venuti a rompere a casa nostra e a dirci cosa dovevamo comprare e cosa dovevamo non comprare capito 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 ok no togli la parola stanno hanno già svenduto tutto adesso vi dimostro cosa hanno svenduto quindi le privatizzazioni in Italia ok il signor Mario Draghi non ha fatto tutta la crociera l'incontro avvenne in acque italiane la nave attaccò al porto di Civitavecchia facendo poi rotta lungo la costa dell'argentario ma lì ma lì la soluzione è l'anarchia l'anarchia non intesa come rivoltosi il governo di nessuno dove tutti sono corresponsabili volete fare le proteste fatele davanti alle basi militari dicendo non vi vogliamo più quando vedete questi militari che vengono nel vostro ristorante a mangiare dicendo no non sei gradito te ne devi andare non vogliamo armi non vogliamo militari una protesta educata non ti offendere ma non non condividiamo cioè iniziate a fare proteste semplici dove loro non sono più accettati qua in Italia dove non sono graditi loro hanno diritto i militari di venire qua come è successo un mese o due fa a uccidere i nostri ragazzi per strada ubriaconi e poi di essere di essere di essere processati negli Stati Uniti ma non mi fai paura sai che mi mi fai la chiocciola non mi fai proprio paura deve ancora nascere uno che mi fa paura l'hai capito o no che io non sono una prezzolata e pagata né da Soros né dalla CIA né dal Mossad che anche quello e c'entrava con la morte di Moro andate a vedere chi c'era dentro a sta gente a queste cose tutto con la collusione la complicità perché i nostri servizi segreti cosa facevano dormivano mentre succedevano queste cose mentre rapivano Moro ma dai ma noi cosa posso cosa posso fare io cosa puoi fare tu anche tu che fai la guardia del corpo a quei politici corrotti come prodi ma senti ma vai ma ancora ma vai a dormire va a te i tuoi padroni vai a dormire vai a dormire vai a prendere i soldi dei tuoi padroni non a fare commenti sterili per distrarmi andiamo avanti l'incontro avvenne in acque italiane quindi il boicottaggio il boicottaggio è la cosa più intelligente da fare con tutti perché è una manifestazione di dissenso non violenta se voi andate nelle piazze vi menano l'abbiamo visto voi non avete il potere non avete le spalle coperte tutte queste organizzazioni sardine e green e verdi e protege sono tutte organizzazioni sponsorizzate da Soros e i suoi compagni quindi voi non avete quel potere lì ma avete il potere di dire no io la tua roba non la compro perché adesso vi dimostrerò che tipo tutti i prodotti italiani sono stati comprati dalla Nestlé la Nestlé è di Soros tutte le cose del gruppo Mondelez sono di Soros non compratele cosa dobbiamo fare non compratele non comprate non andate a comprare la roba di quel banchiere zozzone ma ce la fate a fare una cosa semplice no volete le cose violente perché siete dei violenti facinorosi iniziate a non comprare più la sua robaccia Yonkers Vitasnella tutti questi prodotti sono suoi se nessuno li compra più le sue entrate economiche diminuiscono anche se li andiamo a incidere su un 10% nella sua pancione va in tilt va in crisi ma voi volete le soluzioni violente perché siete menti violente perché l'anima per chi ce l'ha perché ci sono anche persone che non ce l'hanno è fatta da 5 fasi lo sapete che l'anima ha 5 livelli eh l'anima ha 5 livelli il livello più basico più basso è fegato poi c'è cuore poi c'è cervello poi c'è aura aurea e poi c'è l'ultimo livello dell'anima che è l'anima collettiva voi vi sentite un'unità è lì che siete deboli quando voi quando voi quando voi sarete un'anima collettiva imparerete il valore la forza dell'anima collettiva loro hanno tutto interesse di farvi sentire un'unità invece voi siete un'anima collettiva ma non come vuole fare David Salomon della Goldman Sachs ma come vuole o caro Zuckerberg ma come noi per millenni abbiamo avuto la capacità di avere le menti unite ma voi non ci credete ancora in questa cosa perché siete ancora nel livello basico della vostra anima fegato fegato cuore cervello aurea e mente collettiva quando farete questa evoluzione avrete in mano la vostra vita e il vostro futuro capito? inutile che venite qua scrivere cazzate e non me ne frega e chi ti ha detto di venire nella mia live? chi ti ha detto di venire nella mia live? vai dai tuoi padroni o vai su Netflix o vai su YouPorn o drogati bene o bevi un bel po' così ti annebbi il cervello e ti dimentichi che ti stanno fregando se tu vuoi rimanere addormentato rimani io non ce la faccio più non ce la faccio stare zitta hai capito? che è un mio diritto parlare in una società evoluta nel 2022 la soluzione non può essere un governo un'oligarchia ma deve essere una società evoluta paritaria dove tutti hanno un ruolo non dove si deve obbedire a un governo che obbedisce all'Europa e obbedisce a Washington ma chi cazzo sei Washington? ma vai a fare in culo Washington Biden i banchieri i produttori di armi e tutti quelli che ci lavorano perché da destra a sinistra lavorano tutti tutti sono stati assunti nelle fabbriche d'armi ma da destra a sinistra inutile Caroletta che fa il filosofo vi siete presi tutti un pezzo della torta perché siete tutti complici poi fate la pagliacciata come ieri sera no io non voto il governo Meloni perché usa dei termini strani il merito l'identità il made in Italy e certo voi vi siete svenduti il made in Italy vi siete svenduti il made in Italy perché siete delle prostitute non siete dei politici siete delle prostitute siete delle prostitute io mi vergogno di appartenere alla stessa vostra razza voi non siete neanche razza italica voi siete razza plebea della peggior specie siete gli Alvaro Vitali con tutto rispetto Alvaro Vitali ma inteso i Pierino siete la rappresentanza dell'italiota il vero italiano è tutt'altra cosa il vero italiano sapete chi è? quello che ha creato il patrimonio culturale artistico dell'Italia perché all'estero non vogliono gli taglioti all'estero vogliono gli italiani vogliono il patrimonio italico e ci hanno già fatto i conti in tasca ma non da oggi nel Britannia hanno detto allora noi vogliamo questo 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 e dopo che ci siamo smantellati privatizzate tutte le aziende vogliamo anche il Colosseo cioè ci sono le liste dei quadri che a loro interessano ok? e vi dico a chi interessano allora quindi alla riunione parteciparono oltre ad alcuni banchieri del Regno Unito ma cosa ti importa tu? ma chi sei? perché devo rispondere a te? ma chi sei tu? e cosa fai tu? con tre follower? tu fai rompicoglioni io sto aprendo gli occhi alle persone capito che tu non sei nessuno? allora alla riunione parteciparono oltre ad alcuni banchieri del Regno Unito anche un gruppo di manager ed economisti italiani Herman Van Der Wijk o Wijk presidente Banca Warburg o Warburg o Wurburg non so come si dice Lorenzo Pallesi presidente Inas Italia Jeremy Sheddon direttore esecutivo Barclays la famosa banca Barclays Zoet Wed Innocenzo Cipolletta direttore generale di Confindustria Giovanni Bazzoli presidente Banca Anton Veneta Gabriele Cagliari presidente di Eni Luigi Spaventa e poi fece anche una breve saluto breve saluto scendendo prima che la nave salpasse il direttore generale del ministero del tesoro Mario Draghi capito? Mario Draghi allora era il ministero del tesoro Mario Draghi e dopo il signor Mario Draghi dopo essere salito cinque minuti cosa è successo? ha lavorato per trent'anni in Goldman Sachs quindi il lavoro sporco che fa Draghi ogni volta che fa un lavoraccio sporco 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 ok poi è Basaglia non Basaglia imparare l'italiano almeno deficiente ma quanto sei ignorante ma perché non impari le cose almeno volete fare le citazioni cari troll fatele giuste perché qui trovate una persona che vi mangia vive e lo sapete capito? e lo sapete fate le citazioni giuste Basaglia non Basaglia caprone ignorante deficiente allora le privatizzazioni in Italia indicano il processo delle dimissioni di alcune partecipazioni sentite che parole belle le dimissioni no il sacco il sacco delle nostre aziende il sacco delle nostre aziende usiamo le parole giuste ok di un dato settore economico e di alcuni servizi pubblici avviato all'inizio degli anni 90 ok e se hanno interessato una trentina di aziende particolarmente discussa con diverse voci critiche è stata la privatizzazione per favore lo stesso troll con lo stesso nick vi dà fastidio vi dà fastidio perché vi sto smerdando uno a uno perché siete tutti complici da destra a sinistra adesso faccio nomi e cognomi allora e se hanno interessato anche una trentina di aziende particolarmente discussa come diverse voci critiche è stata la privatizzazione del settore telefonico e di telecom che poi vi spiego che telecom è il nome nuovo il nome nuovo allora definita la madre di tutte le privatizzazioni infatti adesso di telecom non funziona un cazzo perché io vi ricordo che la rete la rete fissa di telecom dove vivo io è ancora tutta rame e non fanno nessun investimento di ristrutturazione perché loro svuotano la macchina ve l'ho detto svuotano il secchio e non lo riempiono come hanno fatto di autostrade e sapete che facendo quel giochino lì cos'è successo è successo che sono crollati i ponti una cosa eclatante è stato il ponte Morandi ma chi ha pagato il ponte Morandi nessuno noi abbiamo pagato il ponte Morandi andatevi a informare dopo essersi pappati i soldi i Benetton non hanno pagato un euro e andate a cercare voi sapete tutto voi venite qua a bloccarmi e nel mentre vi stanno fregando vi stanno sodomizzando a meno che a voi non piaccia a me no scusate non mi va non mi piace la prospettiva della privatizzazione in Italia fu discussa sullo yacht Britannia e già lì dico ma perché cazzo parlate su una nave inglese dei banchieri internazionali dell'Italia perché perché già lì non vi suonano i campanelli con la complicità dei nostri rappresentanti di Stato una parte di proprietà della corona del regno che il 2 giugno 1992 era ormeggiato al porto di Civitavecchia in attesa di imbarcare ospiti importanti per una piccola crociera verso l'isola del Giglio così si sono fatti una bella crociera dire anche quello lo voglio anche questa parte mi voglio allora adesso privatizziamo anche le spiagge le isole il patrimonio culturale e artistico italiano in un convegno organizzato da IFIL nel ok nel 1993 avviene la privatizzazione del gruppo SME SME ok allora che cos'era lo SME è un'ex azienda ok con sede a Napoli allora del gruppo IRI sapete che vi parlo tanto del gruppo IRI che cosa c'era in questo gruppo SME Alivar Autogrill Cirio Italgel Sidalm supermercati GS del settore elettricità c'era poi alimentare grande distribuzione e ristorazione ok quindi era un'azienda meridionale che dava un sacco di lavoro ai meridionali a Napoli in company ma nessuno di voi ha capito un cazzo perché continuate a non capire un cazzo nel 1900 come in Puglia io vi ricordo che una delle aziende più famose della Puglia che è a Taranto e non faccio nomi perché qui veramente mi bannano è stata venduta a Larsenot Mittal che è un gruppo indiano ma non si deve dire e no e ma ma no è vero poi i dipendenti che osano dire qualcosa vengono licenziati è vero tipo eh Lilva bravissimo lo dici tu non lo dico io perché ho paura a dirlo perché tutti quelli che dicono quel nome mi fa paura allora quindi ok nel 1993 avviene la privatizzazione del gruppo SME bravo tu dillo bravissimo grazie allora azienda pubblica controllata da Liri con una quota del 64% ok va bene me l'hai già detto l'hai già ammirato allora con una quota del 64% nel luglio 1993 con la prima tranche delle privatizzazioni perché è durata poi ci sono tutti i decreti bersani che sono una meraviglia nel luglio del 1993 con la prima tranche della privatizzazione relativa al settore surgelati e a quello dolciario del gruppo SME il gruppo svizzero Nestlé che la Svizzera vi ricordo che non è neanche una una nazione che fa parte dell'Unione Europea allora questo gruppo Nestlé che sappiamo bene che dietro la Nestlé c'è Soros si compra i marchi Motta Alemagna la Cremeria Antica Gelateria del Corso Maxicono Surgela Mare Fresco la Valle degli Orti voglia di pizza oggi in tavola il gruppo Nestlé che adesso vi dico che è di Soros ok ovvio se ci sono scatole cinesi che non si capisce mai un cazzo chi è il proprietario ma ci siamo svenduti questo settore dell'agroalimentare che continua a vendere dicendo è roba italiana ma loro dicono è roba italiana così gli acquirenti di tutto il mondo comprano anche noi italiani sì è roba italiana in realtà loro fanno accordi internazionali per comprare le materie prime inciuciare in modo che questo prodotto faccia ancora più cagare capito e loro si prendono tutti i guadagni capito il giochino io compro una roba made in italy ascolta marina io compro un marchio made in italy poi di made in italy non c'è più un cazzo perché faccio produrre all'estero in italia faccio solo l'ultima lavorazione e ci metto made in italy capito la stronzata però loro non si sono comprati un brand per dare del lavoro agli italiani si sono comprati un brand per sfruttarne l'immagine e il marchio ma voi non ci arrivate siete cerebrolesi e credete a quello che vi dice il prodi di turno perché prodi è uno ma ce ne sono mille sia a destra che a sinistra che vi dicono no ma hanno fatto delle cose belle ci hanno portato del lavoro ma cosa dici non ci hanno portato un cazzo ci hanno rubato un marchio per vendere robaccia con quel marchio hai capito? e anche soprattutto per dominare una parte del mercato perché tutto quello che made in italy piace all'estero piace sapete che c'è una famosa class action in questo momento negli Stati Uniti per un'azienda di pasta che diceva la pasta italiana quando poi veniva prodotta in America allora gli americani hanno detto ci stai prendendo per il culo ok? la gente che compra made in italy vuole essere sicura che sia made in italy invece loro hanno comprato i nostri marchi italiani per vendere robaccia e dire che è made in italy quindi ci facciamo anche una figura di M capito? perché la gente inizia a dire ma non è così buona sta roba italiana schifosa come quell'altra ma c'è tutto un inciucio dietro che noi non possiamo diciamo controllare perché è tutto in mano alle multinazionali capito? perché basta che la lavorazione finale la cosa finale avvenga in Italia ma questo anche nell'abbigliamento ci siamo venduti tutto ci siamo venduti Gucci Gucci non è più italiana eh ma anche la Lamborghini non è più italiana ma lo sapete qualcuno oh se apro la bocca poi viene fuori come le fanno adesso le Lamborghini eh che i pezzi vengono fatti in eh che ho visto i pezzi eh ma vattene ma cosa pensate di avere a che fare con eh con quella con la nel naso c'è c'è roba proprio eh vuoi che apro il file ecco è meglio vi conviene che non apro i file comunque all'interno del fenomeno è da annoverare contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia all'inizio degli anni 1990 seguita poi da interventi da altri interventi nei decenni successivi in molti settori come esempio la liberalizzazione del trasporto ferroviario infatti sono proprio migliorati i trasporti ferroviari siete pronti è la liberalizzazione del mercato del gas rileggo è la liberalizzazione del mercato del gas perché io vi ricordo che chi critica molto Putin ma sapete come Putin ha trasformato la Russia di Yelstin che stava andando a fare in culo in una Russia di nuovo superpotenza togliendo le aziende di Stato dai privati che si erano privatizzato tutto queste storie queste verità queste Pravda queste MET le ha fatte ritornare ritornare in mano allo Stato ha detto allora senti cosa facciamo io mi riprendo le aziende di Stato e la Russia ha ricominciato a possedere le aziende di Stato a gestire le aziende di Stato e a mangiarsi i soldi delle aziende di Stato prima le aziende di Stato erano in mano agli oligarchi ma la stampa occidentale vi fa credere cattivo Putin è uno schifoso prendeva gli oligarchi e gli obbligava a firmare il contratto detto va a fare in culo e sono stati costretti a scappare all'estero a Londra ma non vi raccontano tutta la storia che questi oligarchi si pappavano i soldi dei russi come oggi questi oligarchi si pappano i soldi degli italiani si pappano i soldi degli italiani e non rinvestono e quando la scatola è tutta rotta malandata dicono italiani mettete mano al portafoglio e pagate i danni ma come tu mi riduci le aziende a brandelli e poi pretendi che l'italiano paghi ma sei scemo loro prendono i soldi dall'azienda la riducono a brandelli la subuotano e poi pretendono che tu italiano metta mano a tutti questi danni e io vi dico non lo dico io eh con la privatizzazione no la liberalizzazione del mercato del gas ci hanno inculato meno male che noi non siamo metanizzati a questo punto nel periodo compreso tra il 1991 e il 2001 molte aziende sono state privatizzate tra le quali Eni la Eni sapete cos'è l'Eni? l'Eni l'Eni adesso vi dico che cosa fa parte dell'Eni perché voi c'è l'Eni il sogno di Mattei Enrico Mattei adesso vi dico chi se l'è pappata allora la società per azione Eni fondata da Enrico Mattei ok prodotti petrolio gas naturale energia elettrica lubrificanti ecco ecco il patrimonio dell'Eni sapete da chi è stato comprato Goldman Sachs acquisì l'intero patrimonio immobiliare e quelle controllate da Liri tra cui la SME agroalimentare cioè la Goldman Sachs quella dove David Selman fa il DJ al World Economic Forum si è comprata per quattro soldi marci tutto il patrimonio immobiliare dell'Eni e quelle controllate da Liri tra cui la SME cioè si è comprato tutto sapete cosa vuol dire un patrimonio immobiliare perché voi siete anche un po' limitati il patrimonio immobiliare vuol dire che tu col patrimonio immobiliare hai accesso al credito perché chiunque può accedere al credito cioè soldi banche se hai un patrimonio immobiliare se io voglio aprire un debito un'ipoteca dicono ma su cosa te la faccio l'ipoteca sul cane ma se io ho un patrimonio immobiliare posso accedere al credito allora distruggere il patrimonio immobiliare dell'Italia e degli italiani vuol dire togliergli la possibilità di avere accesso al credito quindi il vero progetto è stato togliere il patrimonio alle nostre patrimoni immobiliari alle nostre aziende di Stato togliamole via così non hanno accesso al credito e non possono tirarsi su e aggiustarsi le ossa perché se non hai più accesso al credito con cosa le aggiusti le ossa con un cazzo e la mossa successiva dopo aver distrutto tutto il patrimonio immobiliare cioè esserselo pappato adesso vogliono avere accesso al patrimonio immobiliare privato infatti vi stanno dicendo dai ristruttura la casa dai quella casa non la puoi usare non è classe A classe B classe C devi ristrutturarla e poi ti do gli incentivi per ristrutturarla poi se non non ti bastano poi li prendo poi li tolgo poi li prendo poi li tolgo e se non ce la fai a pagarle ti prendo la casa capito ma nessuno di voi c'è arrivato che il patrimonio immobiliare è quello che dà accesso al credito allora la Goldman Sachs ha comprato quattro soldi perché quattro soldi marci tutto il patrimonio immobiliare delle nostre aziende di Stato e qualcuno oserà dirvi ma c'erano dei debiti erano debiti sani perché era tutto studiato e dovete studiare era tutto parte di un circolo che vi ho detto di rinvestimento e poi i soldi venivano usati per rinvestirli sulle aziende adesso questi si sono pappati tutto sono diventati proprietari di tutto ma non hanno rinvestito sulle autostrade sulle aziende anzi loro svuotano le aziende e le fanno man mano chiudere e fallire e noi con cosa andiamo avanti con i bottoni eh ok noi con cosa andiamo avanti con i bottoni ma voi anche le cose semplici non le capite voi non capite neanche le cose semplici ma va ma che rompi palle questa io devo andarmi a vedere cosa c'è a quest'ora uomini e donne vai a vedere uomini e donne vatti a che io adoro è la De Filippi lo guardo anch'io uomini e donne ma ogni tanto ascolta anche un po' no? è vero Pippi perché ti chiami Pippi? ti chiami come il mio gatto Pippi? Pippi ti chiami come il mio gatto? il mio gatto si chiama Pippi il gatto che là si chiama Pippi avete capito? quindi la cosa è iniziata nell'anno 92 e poi piano piano si sono mangiati tutti tutto 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 energia elettrica energia elettrica energia elettrica adesso le vostre bollette sono care perché comandano potenze stranieri in Italia energia elettrica ma lo Stato potrebbe fare tante cose potrebbe mettere un tetto al prezzo dell'energia elettrica del gas e tutto perché lo Stato ha questo potere potrebbe bloccare i conti correnti delle aziende che hanno applicato delle tariffe assurde e hanno triplicato le bollette ma lo fanno perché vogliono distruggere la piccola media impresa perché la piccola media impresa è ancora quella che loro non riescono a chiappare perché si sono chiappati le grandi aziende ma quelle piccole non riescono ancora dice cazzo ma dopo due anni di lockdown non siete ancora morti e no perché noi siamo italiani noi siamo italiani italiani rinascono dalle ceneri anzi gli italiani più c'è un clima duro più diventano cazzuti gli italiani rendono di più nel clima duro ma voi invece di dire cazzo che bravi il caro Draghi cos'è venuto a fare qua è venuto a distruggere lui ha detto bisogna accompagnare al cimitero le aziende che sono barcollanti invece di dire aiutiamole apriamoli no apriamoli il credito no le aziende sono da ammazzare sono da segnalare in crife vero cara unicredit che ti piace tanto segnalare in crife i competitor delle aziende che ti dicono tu quella la devi togliere dal cazzo perché io le prove voi segnalate in crife i competitor delle aziende che vi dicono togli dal cazzo quella quando ti segnalano in crife sì sì anche le aziende soprattutto le aziende sane perché io ho dei clienti che sono state segnalate in crife non perché perché se ti segnalano in crife sai cosa succede tu se vai a chiedere un altro prestito a meno che non parli con delle banche sane ce ne sono ancora che non chiedono la crife e cosa succede tu quell'azienda non hai più accesso al credito hai capito non hai più accesso al credito o se ce l'hai ce l'hai con degli interessi pazzeschi stile usura ma non lo dico io andate a cercare quante cause ha intentato è successo anche a te mi dispiace tanto Antonio perché loro lo fanno apposta ma qui si dimentica di dire una cosa quando Soros ha svalutato la lira perché tutti pensano ha svalutato la lira ma insieme alla lira va svalutato anche la sterlina chi aveva i mutui in equ ai tempi non c'era l'euro c'erano i mutui in equ i mutui in dollari si sono raddoppiati triplicati cioè o pagavi estinguevi il debito negli anni 90 o il tuo debito si raddoppiava quindi hanno fatto anche questo giochino qua di fare pagare il doppio dell'interesse a questa povera gente e invece di dire questo personaggio non lo vogliamo più vedere in Italia nel 95 a Soros l'università di Bologna nella persona del preside Zamagni con la complicità di Romano Prodi e anche di un personaggio politico che c'è la figlia come ministro adesso al governo gli hanno dato la laurea onoris causa cioè noi invece di dire come la Malaisia questo personaggio lo condanniamo e non deve più entrare nel territorio italiano gli abbiamo dato la laurea onoris causa e senza contare che Soros negli anni è tornato puntualmente in Italia a dare indicazione ai politici devi fare così o fare colà anche al governo Gentiloni non lo dico io ci sono gli articoli di giornale ecco perché Soros non ama molto Salvini e la Meloni perché non fanno molto quello che dico io magari fanno quello che dicono qualcun altro per capirci perché non si arriva lì tanto così ma puntualmente puntualmente questo viene a dire ai nostri politici cosa fare cosa non fare perché dietro le sardine c'è Soros dietro a questi sciroccati ecologisti c'è Soros ma nessuno ve lo dice gli fanno credere che sono delle cose spontanee ma cose spontanee ma che se per muovere una foglia ci vanno soldi chi è che paga tutte ste cose ci deve essere un'organizzazione alle spalle no? chi è che paga le ONG queste navi che vanno a prendere addirittura i migranti davanti alla costa libica chi è che ha interesse che i migranti lasciano l'Africa ma chi li vuole usare a 4 euro all'ora a 2 euro all'ora perché andatevi a vedere le associazioni che mandano le lettere alle fabbriche dicendo vuoi un operaio bravo a buon prezzo che non si lamenta te lo faccio avere a 400 euro al mese allora questo operaio poverino sfruttato crea concorrenza con un operaio italiano straniero regolare sul territorio capito? perché gli immigrati regolari sono evoluti e dicono no col cazzo che io vado a lavorare a 400 euro al mese 8 ore al giorno anche il sabato ma loro hanno interesse hanno interesse a creare questa bassa manovalanza per sfruttarla e vogliono che questa bassa manovalanza non sia regolare perché più è regolare più i diritti di queste persone sono schiacciati e guardate che quando vi dicono ma questa gente prende 50 euro al giorno ma siete convinti che le danno ai poverini ai migranti ma siete proprio degli stupidi i soldi i famosi 50 euro al giorno se li pappano le associazioni se li pappano loro svegliatevi come hanno interessi Bibbiano perché facevano Bibbiano perché c'era qualcuno che si pappava i soldi di questi bambini che venivano tolti alle famiglie e messi dentro queste case famiglia perché un bambino un bambino ma questo è scemo vabbè queste sono persone stupide chi vi augura la morte vi sta allungando la vita capito? io non ho paura di Soros io non ho paura di Soros non ho paura dei banchieri sapete che la mia banca mi ha tolto i post e ha detto che cazzo me ne frega vado da un'altra banca capito? perché Soros pensa di avere le mani dappertutto ma guarda Soros le banche non sono tutte tue capito? fenomeno hai capito che non mi fai paura sai perché io non ho paura neanche se venisse qua una persona davanti ti ammazza e ammazzami intanto la mia anima è immortale tu puoi ammazzare il mio corpo ma non la mia anima sei quello che ti fai cos'è che ti sei fatto? andate a vedere quanti quanti ciao Solimane ecco Solimane è un ragazzo del Mali e vi può confermare quello che vi dico io chiedete ai ragazzi africani come fanno avvenire in Italia è vero Solimane? tesoro che io conosco Mali puissanzi maide che il Mali si liberi dalle manacce zozze della Francia colonialista allora questi ragazzi del Mali prendono a piedi o magari su camion che trasportano sapete le pietre dell'edilizia materiale edile attraversano il deserto perché il Mali capite il Mali al sud è già più verde il Mali al nord è più diciamo desertico come attraversano il deserto e arrivano fino all'Algeria all'Algeria in Algeria ci sono delle organizzazioni che li sfruttano e li fanno lavorare vedete che che bella che ci sei tesoro allora vedete che io posso essere amica delle persone del Mali musulmane e delle persone italiane e ebree perché il mio cuore è in sintonia con l'universo perché vuole la pace ok allora queste persone attraversano il deserto su questi camion immaginate il caldo si portano le bottiglie il pericolo le cose e arrivano fino all'Algeria in Algeria ci sono delle organizzazioni che li fanno lavorare però devono fare tutto di nascosto perché se lo stato algerino li becca sono guai ok è vero sul limane già tu hai un nome sul limane sul leima ok poi cosa succede che dopo aver guadagnato abbastanza soldi perché tutti dicono ma dove li trovano questi soldi gli africani lavorano questi viaggi durano anni non durano due giorni durano due tre anni 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 lavorano fanno i lavori più bassi più umilianti soprattutto nell'ambito edile e guadagnano i soldi per arrivare fino alla Libia in Libia lavorano ancora perché il viaggio è bastato cioè i soldi sono bastati per pagare il viaggio dall'Algeria alla Libia allora lavorano ancora un po' per pagare il viaggio per attraversare il Mediterraneo e anche lì ci sono le organizzazioni che li fanno lavorare ma se cadono nelle mani sbagliate di questi mercanti di esseri umani dove li torturano li chiudono in questi centri li torturano con la corrente elettrica li violentano gliene fanno di tutti i colori poi fanno telefonare a casa manda i soldi che cacchio mandano i soldi che questi sono poveri ciao desire tesoro poi riescono a pagare qualche delinquente per attraversare il Mediterraneo e dici ma magari è la volta buona che stanno un po' tranquilli col cazzo ciao 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 un bacione anche io ti voglio tanto bene desiree un esponente delle forze dell'ordine può confermare arrivano con mezzi di fortuna nei nostri porti e quando arrivano nei nostri porti cadono nelle mani di queste associazioni che se ti va di culo sono brave persone se ti va di sfortuna ci sono questi centri migranti dove vengono sfruttati certi centri migranti sono favolosi dove possono studiare c'è un rappresentante un ragazzo molto dolce che si è diplomato un altro ha fatto le medie sanno parlare l'italiano meglio di certi italiani confermo no però ma se cadono nelle mani sbagliate vi ho detto gli dicono tu vai pure a lavorare a destra e a manca ma devi tenere la residenza qua perché io devo incassare i tuoi 50 euro al giorno quindi per continuare avere questo ruolo per continuare a rimanere in Italia finché non hanno il permesso di soggiorno devono continuare a stare al ricatto eh di queste associazioni ma nessuno ve lo dice vi raccontano le favole che vi piace sentirvi dire perché l'opinione pubblica va presa in giro non gli va detta la verità capito e ripeto quando finiscono questo gioco allora possono vivere liberi felici e la loro aspirazione non è andare a fare i delinquenti e a trovarsi un lavoro e una casa capito quelli invece che sono erano delinquenti a casa loro lo sono ancora adesso allora vanno a fare gli spacciatori ma quelli ce n'è di tutte le razze ma guardate che anche gli italiani all'estero voi avete vissuto all'estero io ho vissuto in Australia e c'erano degli italiani che avevano delle pizzerie favolose delle fabbriche meravigliose ma ai miei tempi in Australia è venuto fuori il caso di italiani che coltivavano la marijuana e vi dico che non era bello essere italiani in quel periodo perché tutti dicevano ma gli italiani coltivano tutti la marijuana ma in Italia siete tutti spacciatori non era bello sapete non era per niente bello perché in Australia c'è tanta gente per bene che fa le cose buone italiane ma ci sono state anche gente che si è coltivata la marijuana capito come negli Stati Uniti ci sono state tante brave persone e poi c'è stata anche il problema no della mafia no mafia go go no Pippi ecco allora però tornando al discorso che queste privatizzazioni no energia elettrica non vi sto a leggere tutto perché è lunghissima gas naturale e poi hanno fatto in modo di chiudere i nostri giacimenti di gas naturale tra uno di tanti ce n'è uno nell'Adriatico dove la Slovenia continua a ciucciare hanno fatto in modo di chiuderlo bravissimo anche l'acqua ok io vi sto leggendo tutte le privatizzazioni che hanno portato a dei costi assurdi le telecomunicazioni no quindi leggo qui tutto il gruppo SIP Iritel Italcable Telespazio e SIRM nel 97 la STET azionista di maggioranza di team col 63% venne fusa con la telecom per favorirne la privatizzazione ok vi dico che non ne funziona più un cavolo vi leggo questa cosa che è una chicca allora nel 99 avvenne la scalata da parte dell'accordata di Colaninno supportata da banche internazionali che ottiene il controllo del 51.02% dell'azienda tramite una catena di controllo con a capo una finanziaria lussemburghese scalata non ostacolata dal governo in carica dall'ora D'Alema 1 che rinuncia ad esercitare la Golden Share che poteva fermarla ma ha detto ma no e se no lo yacht D'Alema come se lo comprava la grande massa di debiti creati dai soggetti acquisitori venne poi scaricata sul soggetto acquisito finendo per compromettere l'equilibrio di bilancio e la redditività dopo due decenni permane una grande indebitamento a fronte del dimezzamento delle dimensioni del gruppo la redditività del gruppo fino al 1999 beneficiaria delle regole di protezione strategica del mercato delle telco telecomunicazione venne infatti nuovamente definitivamente compromessa all'indomani della liberalizzazione del 1998 nel 2001 venne effettuata una seconda acquisizione da parte della Pirelli di Tronchetti Provea rimane il fatto che già a partire dalle prime scalate venne compromessa la governabilità del gruppo telecom e la strategia industriale di lungo periodo fino a quel momento con aspetti di eccellenza riconosciuti a livello internazionale con alle spalle numerose innovazioni sia sul fronte del business che nelle ricerche e lo sviluppo tecnologia applicata poi i trasporti i trasporti ok poi senza contare vi andate a vedere il decreto Bersani del 99 decreto Bersani del 2007 eh Bersani in altro del PD quelli buoni che si erano salvati da Tangentopoli ma che bravi che siete siete bravissimi vi leggo l'analisi non la mia l'analisi della Corte dei Conti del 2010 che dice ve lo leggete tutto con un documento pubblicato il 10 febbraio 2010 ormai ultimata la stagione delle privatizzazioni la Corte dei Conti eh vi dico cosa cosa definisce pezzo finale evidenzia una serie di importanti criticità che vanno dall'elevato livello dei costi sostenuti e dal loro incerto monitoraggio alla scarsa trasparenza con naturale ad alcune delle procedure utilizzate in una serie di operazioni dalla scarsa chiarezza del quadro della ripartizione delle responsabilità fra amministrazione contractors ed organismi di consulenza a non sempre immediato impiego dei proventi nella riduzione del debito e praticamente eh afferma quindi a questo aumento inoltre non avrebbe fatto seguito alcun progetto di investimento volto a migliorare i servizi offerti cioè questi si sono comprati tutto e non hanno messo un euro di rinvestimento capito? Poi voi continuate a pensare destra sinistra cioè questi questi politici sono solo dei burattini che sono stati messi lì dalle multinazionali per papparsi tutto il patrimonio economico dell'Italia e i politici per 30 anni destra sinistra tutti sono serviti a questa operazione poi ovviamente chi osava ribellarsi a chi fare di testa loro gli mandavano la magistratura avete visto come Berlusconi veniva indagato come Renzi veniva indagato cioè come se la magistratura venisse usata come spauracchio non fai come dico io ti mando le indagini e provate a negarlo grazie Krishna provate a negarlo provate a negarlo provate a negarlo però voi vi credete tutto vi bevete tutto ah già che vi bevete la cucca che la Russia è cattiva l'America è buona e continuate a bervi le stronzate senza capire che qui ognuno si fa i cazzi suoi forse dovremmo uscire da questa guerra tenerci i soldi in tasca perché in fondo questa guerra è finanziata dal 2% del pillo che servirebbe agli italiani e forse la politica adottata da Putin di riprendersi tutte le aziende privatizzate non è stata forse così stupida pensate se lo facessimo anche noi di riprenderci tutte le aziende di stato e maneggiarle noi e buttare fuori i draghi di turno pensate come ci riprenderemo in due secondi perché guardate che la Germania è sempre un passo avanti a noi quando ha avuto problemi perché tutti dicono ma la Germania non ha debiti ma voi sapete come ha risolto il problema dei debiti la Germania mica con cose economiche stratosferiche ha ha legalizzato la prostituzione e adesso sta valutando di legalizzare la droga perché dice almeno tolgo i soldi alla malavita ma noi non ci arriviamo non ci arriviamo che una soluzione importante sarebbe togliere i soldi alla malavita premetto che io sono contro le droghe contro la prostituzione perché secondo me una donna dovrebbe avere diritto donna uomo trans quello che cazzo è dovrebbe avere diritto a una giusta scolarizzazione in modo da avere un lavoro che le permette uno stile di vita dignitoso ok però se uno lo sceglie per i cazzi suoi cazzi suoi ma almeno non deve esserci il magnaccio che ci mangia così come la droga che viene fatta entrare in Italia con mezzi schifosi ed è della peggior specie magari se tolta dalle mani della mafia e gestita dallo Stato potrebbero utilizzare solo un certo tipo di droghe diciamo controllate e fermare il traffico perché ricordatevi che la mafia con la droga e la prostituzione foraggia altri settori della malavita tipo le guerre e le armi capito? capito? ma non ci arrivate siete troppo primitivi siete ancora al fegato quando passerete dal fegato al cuore al cervello all'aurea e soprattutto diventerete delle menti collettive non guardando più solo al vostro giardinetto ma a me che me frega ma io ce l'ho ancora lo stipendio ma io ce l'ho ancora la pensione ma io ce l'ho ancora la reddito di cittadinanza che me ne frega quando uscirete da questa mentalità di unità e diventerete degli esseri sociali veri dove capirete che i figli sono i figli di tutti dove capirete che se succede un casino in Puglia è un problema anche per il Piemonte se succede un casino in Piemonte è un problema anche per la Puglia allora diventerete veramente degli esseri evoluti è vero Paola che un problema tipo quello dell'Ilva in Puglia è un problema anche del Piemonte è un problema di tutti è un problema di tutti smettete di essere dei vili menefreghisti il problema di questo mondo è il menefreghismo ma che me ne frega intanto solo te parli di guerra solo te ma che vuoi fare tu? io lo so io sto facendo uno ma già insieme a Paola siamo due insieme a Penelope siamo tre insieme a Pippi siamo quattro insieme a a Dark Speed siamo cinque insieme a Cristian Cristina Ann siamo in sei e unendo il nostro cervello che noi siamo muniti di cervello ma anche muniti di anima e la nostra anima la vogliamo far passare dal fegato al cuore al cervello all'aurea e diventare una mente collettiva ma non come vuole fare David Salomon e Zuckerberg le menti collettive vere con le connessioni neuronali vere di persone libere perché la vostra mente non la può controllare nessuno capito Soros ti puoi comprare il Colosseo ti puoi comprare la statua in piazza della Signoria puoi mandare i tuoi amichetti a buttare la vernice sui quadri puoi rompere i coglioni in mezzo all'autostrada la povera gente ma non puoi comprare le nostre anime le nostre anime rimangono nostre e le nostre anime si stanno svegliando e ti faranno un culo così a te e a tutti i tuoi amici bancari e banchieri va bene con questo vi saluto e vi saluto ma non con la violenza eh ma non con la violenza ma te non ti preoccupare non con la violenza tu no cosa fate cosa facciamo noi iniziamo a dire no iniziamo se vediamo una cosa a dire no iniziamo a non comprare più la roba della Nestlé della Heinz della Kraft tutto il gruppo Monde Let's inizia a non comprare più quelle cagate lì no inizia a evolverti inizia se vedi un americano un militare sul territorio italiano non baciare il culo dire senti te ne vai io a te non ti servo la pasta asciutta te la vai a mangiare nella tua base e darle nella tua base di aviano qua non mangi la pasta asciutta ce la fate a fare una roba così eh ma se ma certo Mari tu ci vuoi insegnare a vivere no tu e i tuoi padroni ci volete insegnare a vivere però intanto dato che io dico stupidaggini tu sei qui nel mio profilo io dico così tante stupidaggini che 81 persone sono qua ascoltare le mie cagate e provarmi a bloccare ma se sono stronzate perché volete bloccare le cose di una stupida no? perché vi fa paura vi fanno paura gli animali pensanti vi fanno paura gli anima muniti vi fanno paura chi ha l'anima perché chi ha l'anima non è in vendita e chi si fa comprare vuol dire che non gliene frega un cazzo di essere un'anima libera allora è un problema vostro a me importa di essere un'anima libera e voglio mantenere la mia libertà voglio essere libera di mangiarmi le orecchiette o gli agnolotti del plin ma voglio essere libera soprattutto che siano fatti col grano italiano non con robaccia o GM che un certo Soros me la rigira bene la frittatona e me lo fa rientrare in Italia col marchio Made in Italy capito? capito? quindi imparate anche a leggere bene le etichette a non comprare più le cacate che non sono medine comprate dal contadino comprate nei piccoli negozi guardate le etichette porca miseria cosa vuoi fare? ma lo sapete creare un danno economico alle multinazionali anche solo che un 10% di noi non compra più la loro roba che danno economico li fate? pensateci io con questo vi saluto vi mando un bacione vi do un abbraccio e vi saluto col saluto più bello che c'è no? namaste che saluto l'anima che c'è in voi così sono sicura di salutare solo le persone che sono munite di anima ok? grazie a te Paola un bacione bacione grazie a te Paola